Torna a Torvajanica la tradizione del presepe di sabbia realizzato quest'anno dall'artista Ivan Caponecchi. È un presepe che ha una storia e una tradizione? Sì, nasce circa vent'anni fa, per un lungo periodo si è perso e finalmente dopo dieci anni sono rientrato dalla Germania e come dicevo anche altre volte a grande richiesta anche da parte dei cittadini di Torvajanica ho deciso di impegnarmi da solo insieme alla ST, l'associazione di sviluppo di Torvajanica, il comune di Pomezia a riportarlo perché la gente mancava, a Torvajanica mancava. Vediamolo in dettaglio, come è fatto, quanti personaggi ci sono, come viene manutenuto? Quest'anno sono 8 metri cubi di sabbia, 9 metri per 5, sono 7 personaggi, interamente sabbia di fiume, acqua, tanta pazienza, tanto lavoro, hai circa 22 giorni di lavoro e poi una volta che solidifica basta non toccarlo. Tanta gente a vedere questa opera d'arte che però lancia anche un messaggio, vediamo anche dei pannelli di sfondo, c'è un filo spinato. Sì, quest'anno dato che in Italia ormai questo presepio di sabbia viene fatto da molte regioni, ho deciso di almeno concentrarmi più sul messaggio che su ciò che avevo fatto, perché non è importante ciò che fai ma perché lo fai. Mi toccava molto il cuore il problema dei migranti, soprattutto Cipro e quello che stanno passando in questo momento e dato che Maria, Giuseppe e Gesù erano dei profughi, ho deciso di omaggiare loro, quindi si intitola Speranza, con la speranza che questo non succeda mai più e si può vedere anche nel particolare dell'angelo, che è un piccolo bambino profugo con una barchetta di carta in mano, proprio come simbolo di speranza e speriamo che il messaggio arrivi quest'anno. E il presepe rimarrà in esposizione fino al prossimo 9 gennaio, da Torvaglianica per Canale 10, Alberto D'Abbì.